della rivolta popolare, dell'opposizione alle truppe e agli ordini dell'invasore si hanno all'indomani dell'armistizio. Siamo a Boves, in Piemonte. Nel clima di confusione e di smarrimento seguito all'8 settembre, in località San Giacomo si vanno ammassando 2000 uomini impegnati a resistere insieme contro il nemico. Una colonna motorizzata dopo la cattura di due tedeschi si mette in marcia per andare a dare i ribelli. Ignazio Vian con 30 uomini blocca le SS. Queste desistono dall'attacco ma per rappresaglia distruggono a Boves 741 case. 15 settembre ci hanno radunati 350 uomini in piazza pronti per essere portati via. Verso mezzogiorno ci hanno messo sulla piazza dicendo andate in montagna che i ragazzi vengono giù, quei giovani che sono in montagna che vengono giù in paese, se no domani porteremo via tutti. E così siamo arrivati al 9 settembre quando un autocarro di partigiani si è trovato in fondo alla piazza, si è scontrato con due ufficiali tedeschi, li hanno presi e li hanno portati in montagna. Verso mezzogiorno si sono arrivate le auto blinde tedesche, hanno preso due ostaggi, il parroco e l'industriale vazzallo e li hanno portati in montagna. Si sono fatti di restituire i due prigionieri e poi nonostante tutto questo quando hanno avuto i prigionieri hanno dato fuoco a Boves mitragliando e sparando, dando fuoco e poi hanno portato in piazza questi due ostaggi e li hanno uccisi in fondo alla piazza bruciandoli vivi. Quando Boves fu incendiata io ero in casa e non credevo ad una simile barbaria. Allora mi sono deciso a portare un po' di biancheria in cantina, ma subito mi raggiunge una SS con la rivoltella e saccheggiatomi le tasche e mi ha detto di andare via. Sono uscito di casa, ho visto fumo e fiamme da tutte le parti che divampavano ad un'altezza in certi punti di 30 metri. Io ho avuto completamente la casa distrutta, cominciando con me l'hanno incendiata a basso dal negozio, con i lanciafiammi mi hanno buttato giù una vetrina, poi in seguito è andato su fin sopra il tetto. Io mi sono andato su sotto il tetto, poi a un certo punto quando ho visto le fiamme che arrivavano lassù, c'era ancora una camera che aveva ancora due lenzuola, un letto che non brucia ancora, mi sono salvato legandomi al balcone e sono steso nel cortile e mi sono salvato così. Di Boves, la contrada che Vian difese ed è tuttora legata al suo nome, di Boves e del suo dolore rimane il canto improvvisato di un poeta partigiano. Povere mamme che han persi i loro figli, povere spose che han persi i mariti, povera Boves è tutta distrutta per le barbarie del vile invasor. Le finanze della rivolta popolare, dell'opposizione alle truppe e agli ordini dell'invasore si hanno all'indomani dell'armistizio. Siamo a Boves, in Piemonte. Nel clima di confusione e di smarrimento seguito all'8 settembre, in località San Giacomo si vanno ammassando duemila uomini impegnati a resistere insieme contro il nemico. Una colonna motorizzata dopo la cattura di due tedeschi si mette in marcia per andare a fare i ribelli. Ignazio Vian, con trenta uomini, blocca le SS. Queste desistono dall'attacco, ma per rappresaglia distruggono a Boves 741 case. Il 15 settembre ci hanno radunati 350 uomini in piazza pronti per essere portati via. Verso mezzogiorno ci hanno messo sulla piazza dicendo andate in montagna che i ragazzi vengono giù, quei giovani che sono in montagna, che vengono giù in paese, se no domani porteremo via tutti. E così siamo arrivati al 19 settembre, quando un autocarro di partigiani si è trovato in fondo alla piazza, si è scontrato con due ufficiali tedeschi, li hanno portati in montagna. Verso mezzogiorno si sono arrivate le auto blinde tedesche, hanno preso due ostaggi, il parroco e l'industriale vazzallo e li hanno portati in montagna. Si sono fatti restituire i due prigionieri e poi nonostante tutto questo quando hanno avuto i prigionieri hanno dato fuoco a Boves mitragliando e sparando, dando fuoco e poi hanno portato in piazza questi due ostaggi e li hanno uccisi in fondo alla piazza bruciandoli vivi. Quando Boves fu incendiata io ero in casa e non credevo ad una simile barbaria, allora mi sono deciso a portare un po' di biancheria in cantina, ma subito mi raggiunge una SS con la rivoltella e saccheggiatomi le tasche e mi ha detto di andare via. Sono uscito di casa, ho visto fumo e fiamme da tutte le parti che divampavano ad un'altezza in certi punti di 30 metri. Io ho avuto completamente la casa distrutta, cominciando con, me l'hanno incendiata a basso dal negozio, con i lanciafiammi, mi hanno buttato giù una vetrina, poi in seguito sono andato su, fin sopra il tetto. Io mi sono andato su, sotto il tetto, poi a un certo punto quando ho visto le fiamme che arrivavano lassù, o c'era ancora una camera che aveva ancora due lenzuoli, un letto che non bruciava ancora, mi sono salvato legandomi al balcone e sono steso nel cortile e mi sono salvato così. Di Boves, la contrada che Vian difese ed è tuttora legata al suo nome, di Boves e del suo dolore rimane il canto improvvisato di un poeta partigiano. povere mamme che han perso i loro figli, povere spose che han perso i loro figli.